Ciao, parliamo ancora una volta di Sysur, l'azienda dello scanner IT24 Pro che tanto vi è piaciuto qualche settimana fa. Davvero sono contento di aver ricevuto tutti quei riscontri, non tanto di visualizzazioni, non parlo di queste cose qua, parlo di email. Mi sono arrivate email, tre soprattutto da una biblioteca, da un avvocato e da un altro professionista, un notaio, che mi hanno scritto proprio per capire se uno strumento come quello poteva aiutarli nello scannerizzare cose. No, si sono trovati esattamente nella situazione che descrivevo nel video. E quel prodotto là era fenomenale, però era molto di nicchia, no? Costoso, anche un po' angombrante, insomma una roba professionale. Oggi parliamo di Sysur però con un Fancy Pro. Questo attrezzo qua. Fancy Pro. Guardate quanto è strano. È un tuttofare. È uno scanner, ma anche videocamera, progettato per essere, vedete, portato in giro. Pesa solo 800 grammi, 8 etti. Si può portare in giro benissimo. Tra l'altro arriva in una confezione molto, molto, molto bella. Sysur fa queste confezioni. Ha capito che deve investire, deve spendere un po' nel packaging, nella unboxing experience, no? Come si chiama. È vero, sono delle belle confezioni. Anche l'altro aveva delle confezioni, le avevo paragonate a quelle Apple. È quello stesso. Dentro c'è l'adattatore USB-C. Ed è una custodia che potete usare per il trasporto, leggerissima, con una bellissima cerniera all'interno. Non è solo una scatola, è una custodia per il trasporto. Wow! Molto, molto bello. Ti mette bene quando apri un prodotto e c'è questa scatola qua. Ed è particolare perché si regola in mille modi. Vedete? Si alza, si abbassa, il braccio si apre, poi si stringe qua il pomello e si blocca. Poi si regola qua la fotocamera, la webcam frontale. Vedete? E Sysur lo pensa per due cose. La prima modalità è quella scanner. Ovvero lo metto così, installo il software, qua lo vedete sul MacBook Pro 13 M1, e qua lo vedrete anche prossimamente sull'X13S di Lenovo, il primo ThinkPad con processore ARM. Wow! E comunque viene visto come una normale webcam, diciamo, anche da UPS, per dire, senza passare dal suo software proprietario. Il software proprietario è comodo se io devo fare delle scansioni. Quindi appunto lo metto così, ci metto sotto il libro, avvio il suo software e ho tutte le funzionalità che avevo nell'altro. Quindi riconoscimento della curvatura, la curvatura che viene automaticamente addrizzata, tutti gli strumentini per regolare il margine, il colore, il bianco e nero, l'OCR, l'OCR, il software OCR di Sysur funziona da paura. Cavolo, il software OCR attuale funziona da paura. Davvero è riuscito a fare una scansione di un PDF, di un libro, ed avere tutto in testo modificabile in un attimo. E quindi da quel punto di vista là non cambia nulla rispetto al modello molto molto più costoso. Però appunto questo è anche un dispositivo, un attrezzo che uno usa a casa per farsi un video o per fare una conferenza. Alzo la fotocamera in questo modo, piego la fotocamera in questo modo, magari me lo allontano un po', perché ecco uno dei difetti... No, anzi ne parliamo dopo dei difetti. Me lo metto davanti ed ecco che posso fare la conferenza e tutto il resto. Ci sono dei pulsanti qua sul retro che permettono di fare delle cose, ad esempio attivare questo potentissimo LED frontale. Adesso lo spengo, altrimenti mi acceca. Ma anche regolare l'esposizione, bloccare il focus, quindi singolo oppure continuo lato focus. E si può fare tutto appunto da qua, senza usare il software volendo. Ma c'è anche una cosa molto carina, ovvero tutto il blocco camera si gira di 90 gradi e automaticamente il video viene convertito in verticale. Se io mi devo allontanare a fare una ripresa in verticale, magari perché mi sono alzato in piedi e quindi ho bisogno di più spazio, posso semplicemente, mentre sto registrando, girare ed ecco che l'immagine diventa verticale. Molto figo. Però dal punto di vista tecnico è un po' diverso rispetto all'altro modello super professionale. La fotocamera è una 12 megapixel, arriva a 4000x3000 video e foto, però vi consiglio di tenerlo sul Full HD. Full HD a 60 Hz va che un amore, perché più aumentate la risoluzione e più ovviamente scende il frame rate. E diciamo che si comporta come una webcam di qualità con l'autofocus e un buon audio al microfono qua frontale e la cattura è buona. La cattura è buona, sentite questo sample che ho registrato poco fa. Eccomi. Sto guardando lo schermo, così siamo un po' storti, così sto guardando lui, così sto guardando lui. Non è male. La fotocamera non è male e l'audio che state sentendo è catturato da lui e secondo me è molto, molto buono. Cioè è una bella webcam, non vi sembra una bella webcam? Vi faccio vedere un po' il timpad. Guardatelo. E io vedete una cosa del genere posso fare, no? In questo momento. Mettiamo che io faccio questo. Voglio adesso parlarvi un po' e poi farvi vedere il timpad, no? Avvicino l'attrezzo e lo cappotto. Tac. E do. E lo ha. Ecco qua. E posso fare in questo momento, diciamo, una diretta, farvi vedere che sto smontando questo. No, questo ancora non l'ho smontato. Però, per farvi capire, no? Come funzionano le cose. Come si può fare? Magari lo inclino per bene così. Oli. E quando ho finito, me lo ripunto in faccia. Allontano un po'. Ed ecco che ce l'ho. Ho ancora la mia webcam con l'autofocus e tutto il resto. Non è per niente male. Non è per niente male. Se lo giro e lo metto qua, così vediamo un po'. Adesso devo vedere qualcosa di diverso. Vedete? Di qua. C'è la... È una Canon 550D. Anche a livello di scansione, a proposito, vi lascio in descrizione qualche foto non modificata, presa con lui, come ho fatto la volta scorsa, così potete scaricare e farvi un'idea sulla qualità finale del prodotto. E la scansione è anche buona, perché comunque arriva a 330 dpi, il software è quello dell'altro, quindi siamo là. Però, ovviamente, l'altro aveva le luci basse che impedivano i riflessi. Questo invece ha il LED che sta sopra, quindi se ci mettete un libro con una copertina lucida, la luce LED si vede, no? Chiaramente. È un oggetto un po' diverso, ovviamente, rispetto all'altro mostro. E poi, ovviamente, non ha le porte USB come l'altro, il footpot e il telecomando remoto per fare le scansioni, mentre voi avete le mani impegnate sul libro, no? Come abbiamo visto la volta scorsa. Questo si collega con il cavo USB al computer e stop. E questo fa... Quindi dovete un po' ingegnarvi se dovete soprattutto scansionare. Però questo io lo consiglio a chi deve scansionare, perché altrimenti uno si compra una webcam e stop. Però deve capitare di fare qualche scansione, gli deve capitare di fare qualche scansione, ma al tempo stesso avere una webcam, una fotocamera per fare streaming, per fare le chiamate. In un ufficio dove ci sono tante, magari, videochiamate, riunioni e cose varie, e contemporaneamente magari ci bisogna ogni tanto di fare una scansione e mandarla di qua e di là, questo attrezzino qua è molto, molto funzionale, secondo me. È molto, molto azzeccato, carino, discreto sulla scrivania. Il limite che vi dicevo prima della sua ottica è l'angolo, l'area di inquadratura, che è il campo visivo, ecco, non mi veniva, che è di 82 gradi, quindi non è molto grandangolare. Lo dovete un po' allontanare, diciamo, se siete abituati ad avere la ripresa dello smartphone, per dire che è molto più aperta. Questo è un po' più stretto il campo, forse l'avete visto nel sample di prima. E poi l'altra cosa, ecco, è che ovviamente pesando poco, pesa solo 800 grammi, è un po' leggerino nella base, quindi quando voi lo mettete così, lo mettete esposto al massimo, ecco, lo vedete che, vedete, non traballa, perché poi a fin dei conti non è che dovete toccarlo, usate poi il computer mentre lui è in funzione, però la base è un po' incerta. Magari avrei aggiunto qualche grammo in più alla base per renderlo veramente, veramente più piazzato, più piazzato per terra. Però per il resto mi è piaciuto. Non ho altro da dire. 150 dollari in questo momento su WinDigogo sono un prezzo accettabile, un prezzo che secondo me è in linea con il resto, considerando la funzionalità scanner che da altre parti non trovate, con il software che c'è già, e quindi prendete in considerazione se vi serve una soluzione così smart, leggera, scanner, non scanner, videocamera, non videocamera, per tutti i giorni da tenere a casa. E' tutto, è tutto. Vi lascio in descrizione appunto il link con le canzoni che ho fatto per farvi vedere come va. Per altri dettagli sul software potete anche riguardare l'altro video, perché poi alla fine il software è lo stesso, le funzionalità sono le stesse. E' tutto. Se avete domande sapete dove trovarmi. Ciao. 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 Grazie a tutti.